Io sono molto curiosa per cui per me è fondamentale, considero questo lavoro il lavoro di un privilegiato perché poter essere in un luogo nel momento in cui il fatto sta accadendo è un lavoro da privilegiati però bisogna sempre stare molto attenti a non raccontare la propria opinione ma a raccontare il fatto così come è accaduto. Giornalismo e comunicazione, ne ha parlato a Crotone presso il Museo e Giardini di Pitagora Cecilia Primerano, volto storico del Tg1 iniziativa rivolta agli studenti dell'Istituto Gravina. È un bello argomento soprattutto poterlo affrontare con le nuove generazioni indipendentemente se abbracceranno o meno questa professione però credo che sia molto importante incontrare questi ragazzi e questi studenti soprattutto in un momento in cui i social hanno preso veramente piede nella nostra società e i ragazzi li usano tantissimo e quindi bisogna confrontarsi con loro per fare capire qual è la realtà, cosa sono le fake news e soprattutto non bisogna alimentare attraverso i social l'odio sociale appunto. Momento di confronto e dialogo. Nell'ambito del percorso di orientamento infatti nel quadro delle riforme previste dal PNRR il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato un piano per l'orientamento che prevede proprio l'accompagnamento degli studenti nella costruzione del loro futuro. Un'opportunità dunque per questi alunni che potrebbero scegliere nel loro futuro di intraprendere il percorso della comunicazione e del giornalismo. Riuscire a sviluppare un giudizio critico per riuscire a capire, a discernere ciò che è qualcosa da attenzionare e ciò che non lo è, anzi semmai da scartare.